I carabinieri della compagnia di Agrigento hanno arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesione personale aggravata e un disoccupato di 56 anni. L'uomo all'interno della propria abitazione, mediante utilizzo di un frustino artigianale per futili motivi, ha percorso la propria convivente. La vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. La stessa è stata alloggiata presso una struttura protetta. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari. A Porto Empedoc i carabinieri hanno arrestato per furto di energia elettrica un commerciante di 26 anni. Il titolare di un esercizio commerciale di surgelati si è approvvigionato illecitamente di energia elettrica mediante un allacciamento abusivo al contatore di proprietà dell'Enel. Inoltre, a seguito di accertamenti igienico-sanitari, lo stesso è stato sanzionato con contravvenzioni amministrative avendo un importo complessivo di 6.000 euro. L'arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari. Infine, da Grigento i carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno segnalato in stato di libertà la procura della Repubblica di Grigento per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio un operaio di 33 anni. A seguito di una perquisizione personale domiciliare è stata trovata acisce a marijuana per 10 grammi, due coltelli intrisi di sostanza stupefacente e un bilancino di precisione, il tutto sottoposto a sequestro.